Doviamo ancora trovare Yuko e Simo. Lo so. Usiamo gli anelli dell'amicizia. O non si può fare. Ragazzi, è sveglio! Venite, presto! Cosa facciamo? Lo lasciamo andare? Io avrei un'idea. Perché non lo rimandiamo dal suo padrone con un messaggio? Sasso carta forbice. Fluido verde batte carta. Extravaganza! Per l'ultima volta non c'è fluido verde in questo gioco. Lo dici tu? Io sono un uomo che gioca secondo le sue regole. Ora stammi a sentire. Cos'è questa? Prima di tutto, addestra come si deve la tua scimmia in modo da non dovergli salvare la vita in continuazione. Secondo, tu non avrai mai un ciao, quindi sarà il caso che ci rinunci. E infine, noi possediamo un'arma che vi farà scomparire da centoppia, definitivamente! Firmato mo', mia e varia. Ho anche disegnato una faccetta sorridente, vedi? Buffonerie! Adesso avranno ben poco da sorridere! Aspetta, stai andando da solo! Che vede, Cardi del sonno, degli unicorni mostruosi, delle liane che... Almeno porto a contegurga! Certo che Yuko e Simo hanno preso il gioco molto seriamente. Io ho visto Simo qui prima. Deve essere ancora in giro. Vieni fuori, Simo! Il gioco è finito! Siamo quassù! Su, torniamo da te, Sandra, andiamo! Così, tu e Simo soli su un albero... Che c'è? Sei geloso per caso? No, ma che dici? Ho detto a Simo che la città è una cotta per lui! Guardalo, gli si vedono i cuoricini tutti intorno alla testa! Volevo rivedere gli unicorni della natura! Torneremo a cercarli più tardi. Tanto puoi vederli solo se loro vogliono farsi vedere. Elfie! Vi sento, Elfie! Vi pentirete molto amaramente, ve lo giuro! Specialmente tu, Maria! Unicorni mostruosi! Sasso, carta, forbice! Non è così! Purtroppo non c'è speranza. Unicorni mostruosi! Carri, scappa! È stato divertente! Non avevo mai fatto una cosa simile. Intendi nascondino? Già. Mi nascondo, ma per altri motivi. È finita! La pozione è pronta! Grazie davvero, davvero tantissimo, Tessandra. Questo significa molto per noi. E grazie per averci fatto restare qui. Se mai verrete al cratere degli Elfi, sarete più che benvenuti. Un giorno verremo. Probabilmente. Beh, anche per questa volta il mio viaggio è finito. Puoi prendere questa? No, in realtà io purtroppo devo fare delle cose urgenti. Ci vediamo! Ciao! Ecco che diventa di nuovo misteriosa. No! È qui che voglio restare! Visto? Trova sempre qualche stupida scusa per andarsene. E l'oracolo ha detto... Sapete? Niente ha tanta importanza. Rimarrò al cratere degli Elfi con voi. I miei veri amici. Veri amici. Vorrei poter rimanere anch'io, ma... Noi siamo qui. Sai dove trovarci. Tornerò presto. Ciao, Mia! Ciao, Mia! Ciao, ciao! A presto! A presto!